Un saluto a tutti, siamo qui con Silvia Mezzanotte. Cosa ci puoi dire su questa edizione di Sanremo? Su questa edizione di Sanremo ci sono un sacco di cose da dire, nel senso che secondo me ci sono artisti meravigliosi che stanno cantando. Quello che penso e che vedo come vincitore è abbastanza scontato, è Mengoni, ma anche quello che oltre ad avere la canzone più azzeccata è quello che ci ha messo più umanità, mi piace molto. Perfetto, e invece un ricordo riguardo hai vinto Sanremo? Ah beh, era l'anno 2002, la canzone si chiama Messaggio d'amore, è ancora assolutamente nel mio cuore, è una canzone che per fortuna è ancora nel cuore di tanti, mi piace sempre ricordare e cantare. Invece domanda un po' particolare, come sarebbe un tuo Sanremo? Ma chi lo sa, in futuro si potrebbe anche fare, bisogna avere un progetto giusto che possa andare bene per Amadeus o per il direttore artistico che ci sarà. Al momento non ce l'ho, non ce l'avevo questo progetto e quindi bisogna presentarsi quando si è assolutamente pronti. Perfetto, grazie mille allora. Ciao a voi, ciao a tutti.